Grazie a tutti. Il concorso diretto è concorso di idee. Arrivano le precisazioni dell'amministrazione. Entro l'estate nuove ringhiere, scrive Caciotto, sbloccato anche l'iter del concorso. Alghero è fra le dieci città in Lizza per diventare capitale italiana della cultura 2018, ma per forza Italia il rischio flop è enorme. Oggi il sistema culturale non esiste più, se non nella carta, denunciano Andrea De Logo e Michele Paes. Viaggio ad Andorra e Barcellona per il vice sindaco assessore Antonello Usai. Diversi interessanti incontri istituzionali per riprendere e in alcuni casi pianificare scambi ed eventi con Alghero. Un saluto a tutti voi telespettatori di CatalanTV. Ben ritrovati con la quotidiana informazione della televisione di Alghero. Il telegiornale lo apriamo oggi parlando della situazione di ringhiere e parapetti sul lungomare di Alghero, perché dopo le critiche arrivate dal Movimento 5 Stelle giunge la risposta dell'amministrazione che fa delle precisazioni e annuncia il via dei lavori per la messa in sicurezza definitiva del lungomare di Alghero e Fertilia. Da Sant'Anna fanno sapere degli interventi da subito sugli affacci a mare dalla torre di San Giacomo, scusate, all'Astronas, mediante la sostituzione dei parapetti metallici installati in emergenza nell'estate del 2014. Per verificare la struttura e la staticità del parametro murario sopra il quale verranno riposizionate le nuove ringhiere, già vagliate dalla competente sovrintendenza ai beni architettonici, grazie all'apposito finanziamento della Regione Sardegna, vincolato alla messa in sicurezza. L'intervento, fanno sapere ancora da Sant'Anna, consentirà di procedere al posizionamento delle nuove ringhiere entro il mese di maggio 2017, mentre si lavorerà la completa riqualificazione dell'ultimo tratto di lungomare Valencia e della piazza San Marco di Fertilia. Parallellamente si sblocca anche l'iter procedurale del concorso di idee internazionale bandito dal comune di Alghero per ridisegnare l'ambito edilizio urbano e paesaggistico ambientale della passeggiata sul lungomare. Si attendono le idee per riqualificare l'immagine complessiva del bastione Magellano, quello Cristoforo Colombo, del lungomare Dante per proseguire lungo la passeggiata che conduce al colle Balagher, ricomplendendo le strutture esistenti del Cavalmarì e Balagher e prevedendo infrastrutturazioni degli spazi balneari mediante sistemi leggeri rimovibili. 22 gli studi di progettazione che hanno presentato la propria candidatura al vaglio della Commissione di Professionisti Esterna all'Amministrazione, convocata per la riunione di insediamento entro la prossima settimana. Superate, non senza difficoltà, rendono ancora noto dal comune, le procedure di indicazione da parte degli ordini professionali e il coinvolgimento del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Sassari. La procedura articolata è in due fasi. La prima, di preselezione, si svolgerà attraverso la valutazione delle proposte metodologiche dell'esperienza pregressa che determinerà la selezione delle dieci migliori idee progettuali che saranno ammesse alla seconda fase concorsuale di presentazione dello studio di fattibilità che sarà giudicato dalla Commissione. Masterplan di riqualificazione che prevede un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro con opere da realizzarsi con interventi di dettaglio e specifici appalti di finanza di progetto. Si lavora dunque a chiudere il concorso di idee e allo stesso tempo a mettere in sicurezza tutti gli affacci a mare con la completa sostituzione dei parapetti installati con un intervento che nulla toglie all'ambizioso concorso di restyling che abbraccia il frontemare del porto turistico e il colle panoramico a sud della città ha sottolineato in chiusura l'assessore alle opere pubbliche Raimondo Caciotto. Lo sappiamo, Alghero è fra le dieci città in Lizza per diventare capitale italiana della cultura 2018. Arriva il commento di Forza Italia con il portavoce cittadino Andrea De Logo e il consigliere comunale Michele Paes che ricordano i risultati raggiunti sul fronte culturale con l'amministrazione di centrodestra e al tempo stesso si dicono preoccupati. Il rischio di un flop, scrivono, è enorme. Sentiamo perché. De Logo e Paes esordiscono ricordando quanto fatto nei dieci anni di amministrazione di centrodestra dal 2002 al 2011 in termini di opere di reperimento di finanziamenti passando per la costituzione della fondazione Meta. È stato facile per gli uffici comunali, scrivono, presentare la candidatura attingendo a piene mani al piano strategico comunale Alghero 2020. Il Museo del Corallo, il Museo della Città, il Museo Manno, il Restauro delle Torri, la riqualificazione del complesso di San Michele, il polo universitario nell'ex ospedale civile e nel monastero di Santa Chiara. L'Alghero Card, purtroppo abbandonata per valorizzare e visitare tutti i siti archeologici, ambientali, museali della città, l'apertura della sede della Generalità di Catalunia e ancora la valorizzazione della nostra identità e specificità di cultura e di lingua. Questi e alcuni dei progetti portati a termine dalla Giunta Tedde, contenuti nel piano strategico Alghero 2020. Insomma, sottolineano i due esponenti forzisti, tutto ciò ha consentito ad Alghero a pieno titolo di candidarsi a capitale della cultura italiana, non da semplice partecipante, ma da potenziale vincitrice. Siamo tuttavia preoccupati perché il rischio di un flop è purtroppo enorme. Speriamo, scrivano De Lugo e Paes, che la Commissione non entri nel merito dell'attuale situazione dell'intero settore culturale in città, perché non avremo alcuna chance di vittoria e avremo perso tutti una possibilità unica, perché oggi il sistema culturale non esiste più se non nella carta, denunciano. La Fondazione Meta non è riuscita a diventare quell'elemento propulsore di raccordo con tutto ciò che è cultura in città, è stata solo infarcita di figure da vetrina senza che realmente si sia dato gambe alla sua vera e originale mission e i risultati negativi purtroppo sono sotto gli occhi di tutti. Il museo della città, proseguono i due forzisti, è ancora chiuso nonostante dal 2011 si siano ottenuti riconoscimenti ministeriali perché per quattro anni ci si è strastullati sul fatto che occorrevano lavori di manutenzione che si sarebbero potuti effettuare in pochi mesi se solo si fosse affrontato con determinazione il problema e oggi per il secondo anno di seguito viene annunciata l'apertura senza che di contempo si sia pensato a come gestire il museo, come promuoverlo e valorizzarlo e senza avere ancora individuato, al di là delle beghe di bottega, le figure professionali di cui il museo così importante necessita. Dele Ugo e Paes puntano anche il dito sulla chiusura del teatro denunciando come l'amministrazione non sia stata in grado di rinnovare per tempo le autorizzazioni non ottemperando la periodica programmazione di adeguamento e messa a norma del certificato prevenzioni incendi. Ricordiamo che nel finire del 2011, grazie alla sinergia fra Meeta e Algeno e Naus, in venti giorni si mise a norma il teatro, si rinnovò il certificato e fu possibile ospitare già a cavallo fra Natale e Capodanno, Paolo Fresu, Liarea, Enzo Favata, gli spettacoli teatrali della compagnia Teatro d'Inverno e nei mesi appena successivi garantire la stagione teatrale. Ma il portavoce e il consigliere comunale di Forza Italia attaccano la giunta Bruno anche per l'ex caserma destinata, dicono, a distretto della creatività insieme all'ex cotonificio con un piano di fattibilità già finanziato grazie alla giunta Tedde e oggi stravolto e violentato nel suo spirito originale, destinato a casa delle associazioni, senza un reale progetto, senza interventi strutturali, messa a norma dei locali, senza un piano di gestione e un piano economico con rischio di disperdere un patrimonio di valore inestimabile per la città. Ma anche il complesso del qualtè, struttura meravigliosa, scrivono, che potrebbe essere davvero il cuore pulsante della città e oggi desolatamente vuoto nelle sue ampie e bellissime e sale, nei suoi atelier, nei suoi locali, che potrebbero anche solo essere locati a ospitare attività culturali, di promozione del territorio, di valorizzazione del settore agroalimentare, magari con un progetto di utilizzo e valorizzazione delle torre ragonesi, anche se desolatamente abbandonate a se stesse. Insomma, concludono dello WebAIS, Alghero sei candidata a Capitale Italiana della Cultura con potenzialità enormi, con un patrimonio di inestimabile valore, ma abbandonato a se stesso, con azioni annunciate ma destinate a rimanere sulla carta o nel libro dei sogni, perché purtroppo la filosofia di Bruna è quella non del fare ma del dire, di annunciare e di non far seguire atti concreti. Domani mattina alle 10, nella sala conferenze del Qualte in Largo San Francesco, i comitati Alghero dice no e il locale Comitato per il no, che aderisce all'omonimo Comitato Nazionale, hanno organizzato un incontro pubblico per illustrare le ragioni del no al prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre. L'iniziativa si pone l'obiettivo di informare gli indecisi sui contenuti della riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. Un'occasione importante anche per chi, pur essendo orientato a votare in maniera diversa o a stenersi, volesse approfondire le ragioni del no, ma anche per coloro che volessero ulteriormente rafforzare la propria determinazione a votare no. I relatori che si succederanno negli interventi sono l'avvocato professor Mario Tocci, il consigliere regionale Marco Tedde, Stefano Lubrano, il consigliere comunale Michele Paes trarrà le conclusioni in Marco Di Gangi. Parteciperanno Andrea De Logu, Mario Conoci e i consiglieri comunali Maurizio Perisi, Nunzio Camerata, Maria Grazia Salaris, Monica Pulina e Alessandro Nasone. Ci lasciamo per la pubblicità, a tra poco. Dal 22 dicembre 2015 numerosi progetti di riqualificazione dei centri storici sardi attendono il via libera della regione che ormai a quasi un anno di distanza dal bando non ha ancora pubblicato la graduatoria delle iniziative che sbloccherebbe la spendita di 18 milioni e mezzo di euro. Così il vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Marco Tedde che ritorna sul grave ritardo della regione nel dare attuazione al bando 2015 della legge regionale 29 del 98. A seguito dei nostri ripetuti solleciti la regione ha recentemente pubblicato una graduatoria parziale per un milione e mezzo di euro, una piccola parte dello stanziamento. Mancano ancora l'appello 18 milioni e mezzo, attacca il consigliere regionale algherese. Sinceramente una moderatissima soddisfazione comunque ridotta ai minimi termini dal fatto a quasi un anno dalla pubblicazione del bando, quasi l'intero finanziamento del bando stesso 2015 relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017 e ancora oggi nelle casse della regione quando invece quelle risorse potevano già essere iniettate nel sistema economico sardo a beneficio soprattutto delle imprese edili ed artigiane sarde. Sembra più di aver assistito alla concessione di un contentino che lascia ancora più preoccupati per i continui ritardi dell'amministrazione Pigliaro prosegue Tedde, mentre le imprese edili artigiane sarde sfinite dalla interminabile crisi economica tentano di sopravvivere. Oltre 18 milioni di euro continuano a rimanere a Cagliari fermi nelle casse della regione, una politica disastrosa basata su un attendismo infinito i cui effetti negativi sono ormai sotto gli occhi di tutti e del quale Pigliaro e la sua maggioranza saranno presto chiamati a rispondere politicamente, conclude l'esponente forzista. Viaggio ad Andorra e Barcellona per il vice sindaco e assessore Antonello Usai, diversi interessanti incontri istituzionali allo scopo di riprendere in alcuni casi pianificare scambi e eventi con Alghero. Sentiamo proprio le parole dell'assessore Usai. Con il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Alghero Antonello Usai per parlare di un viaggio fatto tra Andorra e Barcellona dove lei ha incontrato tanti rappresentanti istituzionali e ha riaperto alcuni rapporti messi in stand by con la nostra città. Sì, è stato un viaggio abbastanza faticoso per certi versi dal 7 all'11 di novembre dove abbiamo ripreso i rapporti con il sindaco della città di Encamp, con il direttore generale della politica linguistica della Generalità di Catalogna, con il segretario generale dello sport della Generalità di Catalogna e poi con le massime autorità nel settore culturale, il direttore generale e il presidente della Fondazione Ramon Llull. Siete partiti da Andorra, lì che avete incontrato? Abbiamo incontrato il sindaco che è il signor Giordi Torres, un giovane che è stato eletto proprio quest'anno, a maggio di quest'anno, con il quale abbiamo intrattenuto rapporti per una serie di attività, soprattutto nel campo sportivo e quindi con un scambio tra le nostre squadre che avverrà il 15 giugno, ma anche attività culturali che vedranno forse nel mese di settembre, grazie anche all'interlocuzione di una nostra associazione culturale, del campionato catalano di Scrabble, Scrabble. È una cosa abbastanza interessante. Poi abbiamo visto l'attività che viene svolta nel mondo dello sport con il direttore generale degli impianti sportivi e con l'assessore allo sport. Certamente sono risultate anche le differenze di uno stato che ha molta più, poi lo stato di Andorra, è molto ricco rispetto anche alla città di Aglierio e alle restrizioni a cui comunque il comune di Aglierio è sottoposto, così come in tutta Italia. A Barcellona invece avete incontrato diversi personaggi, sia istituzionali che anche però della cultura, tra l'Istituto Rammollugli e l'Istituto dei Studi Scatalanzi. Che cosa avete concluso? Intanto di proseguire una interessante attività culturale che c'è già da tanti anni. Per esempio l'Istituto Ramollugli e l'Istituto dei Studi di Catalania ai primi di dicembre farà due giorni che è interessante perché il titolo riguarda la modalità di intervento per la depurazione e noi con la marea gialla abbiamo qualche problema. Quindi verranno i migliori e i più importanti studiosi del settore e tutto questo avverrà dal primo al 2 dicembre. Poi abbiamo chiuso l'accordo che ci vede protagonisti oramai per la candidatura di Aglierio la Città della Cultura del 2017 e loro si sono dichiarati disponibili ad appoggiarci con tutte le attività e le certificazioni di tanti anni di attività. Ed ora facciamo un'altra pausa per la pubblicità. Questa mattina il cimitero di Alghero ha ospitato una commemorazione, infatti in occasione della ricorrenza del 71esimo anniversario dell'ecidio del 1945 in cui persero la vita 5 appartenenti al corpo degli agenti di custodia che furono barbaramente trucidati durante una rivolta all'interno della casa di reclusione di Alghero nel tentativo di impedire l'evasione di massa dei detenuti che erano lì rinchiusi il direttore della casa di reclusione di Alghero, la dottoressa Elisa Milanesi il comandante del reparto di polizia del dipartimento il comandante del reparto di polizia penitenziaria, il dottor Antonello Brancati unitamente ad una rappresentanza del corpo di polizia penitenziaria e con la partecipazione naturalmente dei familiari delle vittime hanno deposto una corona dal loro benedetta dal capellano della casa di reclusione di Alghero sulle lapidi e la targa commemorativa del personale deceduto nell'adempimento del proprio dovere proprio nel cimitero comunale di Alghero ogni anno questa commemorazione riporta alla mente un fatto doloroso che ha visto al loro malgrado protagonisti alcuni agenti che compievano il loro dovere e che purtroppo in quel frangente hanno perso la vita A conclusione di Mondo Rurale, questa domenica Guardia Grande è in programma la seconda edizione di Memori Antichi Sapori, dai campi alla tavola senza perdere i sensi, mostra a mercato ma anche momenti di riflessione e attività per i bambini Abbiamo parlato del programma con due rappresentanti del Comitato Zonale NURRA che assieme all'Associazione Socioculturale e Sportiva di Guardia Grande il Comitato dei Festeggiamenti Nostra Signora della Guardia e l'Associazione Impegno Rurale e altre associazioni e cittadini del territorio della NURRA al Ghirese hanno organizzato questo appuntamento Siamo in compagnia di Daniele D'Ora e Cristina Corredu del Comitato Zonale NURRA perché domenica si conclude Mondo Rurale con un appuntamento dal titolo Memori Antichi Sapori Daniele di cosa si tratta? Sì, si tratta di un percorso sensoriale e rievocativo della vita rurale dal passato fino ai nostri giorni e quindi sarà una vera e propria fiera in qualche modo dell'agro e quindi delle attività produttive che ci sono nell'agro ci saranno tante attività per bambini, per adulti e quindi una giornata di festa proprio a conclusione di Mondo Rurale con tanti eventi ludici ma anche spazi per la riflessione quindi per i racconti, per raccontare il passato e per quindi conoscere anche le realtà produttive che sono presenti oggi sul territorio Il programma che inizia a che ora? Il programma, allora la giornata inizia alle 9.30 e dura praticamente tutta la giornata quindi finché ne abbiamo voglia poi la sera si conclude con balli e canti in piazza con il gruppo folk di Itiri Kanedu e quindi insomma sarà come ho detto proprio una vera e propria festa Una festa per le famiglie ma anche per i più piccoli Cristina? Sì esatto, ci sarà uno spazio ampio per i bambini ci saranno diversi laboratori abbiamo cercato di incastrare le cose di modo che i genitori siano abbastanza liberi di seguire le nostre attività nel momento in cui invece i loro figli, i bambini stanno facendo laboratorio ci saranno spettacoli ci sarà una parte molto bella dopo il pranzo e sarà la rievocazione dei vecchi giochi e sarà molto bello l'abbiamo già fatto nella scorsa edizione vedere gli anziani e comunque le persone adulte che spiegano ai bambini con entusiasmo che giochi loro facevano quando erano piccoli il tutto condito naturalmente dalla presenza degli stand con tutti i prodotti del territorio sia prodotti enogastronomici che prodotti artigianali Cristina ha parlato di prodotti enogastronomici c'è appunto il momento anche della degustazione, non solo? Sì, all'ora di pranzo ci saranno appunto l'associazione socioculturale di Guardia Grande e il comitato dei festeggiamenti di Guardia Grande che proporranno due menu l'immancabile pecora bollita e poi il cinghiale inumido e quindi si potrà appunto con un ticket usufruire di questo pranzo a conclusione di questo pranzo ci sarà un momento rievocativo anche delle ricette antiche quindi noi abbiamo chiesto alla popolazione di presentare, di cucinare un piatto antico relativo magari alla propria cultura sappiamo che nell'agro abbiamo un mix di varie culture e quindi sarà un momento per anche diciamo conoscere meglio gli aspetti anche culinari del nostro passato capire con che ingredienti erano fatti questi piatti e capire anche se oggi questi ingredienti sono disponibili sul territorio e quindi anche questo è un momento per riflettere ai prodotti dell'agro l'unione italiana lotta alla distrofia muscolare in collaborazione con la libreria il labirinto Mondadori e il dipartimento di architettura presentano il libro Design for Duchenne dell'architetto Michele Marchi studio innovativo di soluzioni architettoniche spaziali e funzionali mirate a rispondere alle esigenze di accessibilità e fruibilità delle persone affette da distrofia muscolare da altre malattie neuromuscolari e da tutte le patologie che portano alla disabilità motoria l'incontro che ha per titolo per una città inclusiva si terrà questo pomeriggio alle 17 presso la sala conferenze al Qualte ci lasciamo per l'ultima pausa pubblicitaria questa mattina l'auditorium dell'istituto Rott di Via Diezza ha ospitato la presentazione del progetto Nob Lab inserito nel più ampio disegno dell'obligatorietà formativa del MIUR alternanza scuola-lavoro Nobento è l'azienda insediata nel polo di San Marco hanno parlato di questo progetto sia l'assessore allo sviluppo economico Natascia Lampis che l'amministratore Andrea Alessandrini fondatore del progetto Nob Lab iniziamo ascoltando le parole dell'assessore siamo felici stamattina di partecipare all'avvio di questo importante progetto insieme al nostro istituto tecnico superiore l'istituto Rotti insieme all'azienda Nobento è un'azione molto importante quella delle indicazioni che il MIUR dà rispetto all'alternanza scuola-lavoro un capovolgimento anche del ruolo della scuola e anche del ruolo delle imprese che devono imparare a collaborare insieme a dialogare per costruire dentro la scuola quelle competenze che servono che poi possono essere riversate nelle nostre aziende locali ma non sole la nostra presenza qua naturalmente serve a sostenere a dire che queste cose insomma sono importanti e che siamo disponibili a farle crescere in un'ottica che è quello del quadro dell'amministrazione comunale complessivo del sostegno alle imprese lunedì abbiamo organizzato ad Alghero un importante incontro per presentare i nuovi bandi a Sportello tante nuove opportunità per le imprese esistenti per quelle in via di Costituzione il progetto Oasi che stiamo cercando insomma di concludere in collaborazione con l'Università di Sassari per la creazione di un centro per l'imprenditorialità al Qualtè il progetto Lighthouse a San Marco insomma una serie di azioni che sono azioni che poi rientrano dal punto di vista appunto dell'assessorato sviluppo economico ma di tutta dell'intera amministrazione dentro un quadro una cornice complessiva di cose concrete che servono a rilanciare in modo forte la cultura di impresa e permetterci al servizio di essa e adesso sentiamo anche Andrea Alessandrini fondatore del progetto No Lab questa collaborazione darà una grandissima possibilità sia ai giovani delle scuole medie superiori locali stiamo anche pensando di allargare anche attraverso scuole medie superiori di Sassari il progetto che prende il nome da No Lab Laboratorio Nobento quindi una chiamiamola una vera e propria fucina di talenti per il futuro questa questa possibilità che la Nobento non solo dà ma è una possibilità che la Nobento riceve formeremo i giovani per il futuro ripeto un futuro veramente prossimo è un progetto che porterà nel prossimo triennio sicuramente la crescita anche dell'occupazione per quanto riguarda il territorio in questo caso della zona industriale di San Marco l'obiettivo di Nob Lab è quello di creare veramente competenze in questo caso legate alla forte automazione che è presente all'interno della Nobento SPA un'automazione dedicata alla realizzazione di serramenti in PVC e di tutto quello che riguarda il ciclo produttivo io spero che questa collaborazione sia gradita soprattutto dal territorio spero che questa sia veramente una possibilità di crescita non solo dell'azienda ma di tutto l'indotto che ci vede in questo momento protagonisti il nostro telegiornale termina qui grazie per averci seguito arrivederci